Si va verso la firma dell'accordo alla Morgan Carbon di Martinsicuro nella giornata di oggi con ogni probabilità verrà siglato tra sindacati e imprese il rinnovo del contratto aziendale. Nella serata ieri la direzione aziendale ha convocato la RSU che si è resa disponibile a tornare sul tavolo della trattativa per il rinnovo del contratto aziendale. L'azienda ha articolato una nuova proposta sul premio presenza mostrandosi pronta ad un confronto aperto che ha portato ad un'intesa preliminare sul premio di presenza. Con conseguente ipotesi di accordo complessivo sul rinnovo del contratto aziendale. L'ipotesi di accordo è stato sottoposto al voto dei circa 140 lavoratori che si sono espressi favorevolmente all'unanimità nell'assemblea. Dunque tra aziende e sindacati sono stati definiti gli accordi legati al premio di presenza e conseguente accordo complessivo del contratto aziendale. Questo oltre al rinnovo del contratto nazionale chimico. Nell'ambito della sorveglianza sanitaria aziendale in tema di prevenzione a maggior tutela della salute è stata ampliata a favore delle lavoratrici e dei lavoratori la fascia delle analisi cliniche che possono essere seguite a carico dell'azienda. Infine contro la precarietà la durata massima dei contratti a termine di staff leasing è stata fissata in 24 mesi. Alla fine! Alla fine! Grazie.